La zona dove insegno è di periferia, quindi con ragazzi di diversa estrazione sociale, alcuni dei quali stranieri, figli di stranieri, quindi con anche qualche difficoltà di integrazione perché sono arrivati a scuola da poco. La mia esperienza con la didattica a distanza ha avuto degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Gli aspetti positivi forse riguardano più me come docente perché io ho imparato tanto, sicuramente non ero affatto preparata a questo tipo di didattica. Per quanto riguarda i ragazzi ho visto un atteggiamento molto diverso tra la prima esperienza di dad e la seconda. Nella prima c'è stato anche un certo entusiasmo da parte loro inizialmente perché anche loro hanno conosciuto un mondo nuovo pur vivendo una situazione del tutto anomala. Nella seconda fase invece quest'anno ho visto solo aspetti negativi. I ragazzi hanno perso tanta motivazione, hanno perso tanto interesse. Sono rimasta sconcertata quando alcuni di loro mi hanno detto che loro il pomeriggio lo passavano solo a guardare video, serie tv oppure a giocare alla playstation e che il loro grande dispiacere era quando questa serie tv o il gioco alla playstation terminavano. Alcuni di loro addirittura mi hanno detto che piangevano a seguito del dispiacere di questo mondo che si concludeva. Ho pensato che non ho gli strumenti per entrare in comunicazione con loro in questo senso. Per me è un mondo completamente straneo. Mi sono accorta che loro vivono una vita del tutto parallela. Il mondo mediatico per loro è diventato il loro mondo. Le loro relazioni sono tutte lì dentro, sono tutte falsate. Mi sono posta la domanda come faccio io a entrare in contatto con loro, come faccio a stimolarli, come faccio a farli tornare nell'ambiente scolastico. Questo mi ha lasciato interdetta, devo dire. Tre mesi di didattica a distanza, già soprattutto con i più piccoli, quelli della prima media, li ha fatti tornare regredire, come se i primi mesi di scuola non ci fossero stati. Questo è preoccupante. Le ordinanze della regione Umbria ci hanno prorogato questa chiusura della scuola di settimana in settimana, quindi con un'incertezza ancora maggiore dell'anno precedente. Perché se l'anno precedente, bene o male, dopo le prime due settimane, hanno capito che ormai avremmo concluso l'anno scolastico in quella maniera. Quest'anno secondo me è stato anche più brutto, che di settimana in settimana si prorogava questa modalità, diciamo, strana di fare lezione. La distanza e l'uso di strumenti come il telefono, il computer, eccetera, ha permesso agli sfuggenti, diciamo così, o a quelli che stavano con più difficoltà all'interno del gruppo della classe, di sparire. E altri quasi. Nel marzo del 2020 la nostra attività clinica si è molto modificata. Intanto siamo stati costretti a sospendere molto delle attività che avevamo in atto e a sostenere le famiglie e anche i bambini e i ragazzi che noi avevamo in carico in una maniera differente, cioè utilizzando spesso modalità da remoto. Successivamente, soprattutto dall'autunno 2020 ed in particolare fine 2020 e questo primo trimestre del 2021, abbiamo avuto un grande incremento di ragazzi, soprattutto preadolescenti, quindi dagli 11 ai 14 anni, con sintomatologia caratterizzata soprattutto da disturbi depressivi, ansia e condotte autolesivie e ideazione suicidaria. Nel primo trimestre del 2020 le richieste per questa tipologia di disturbi e soprattutto per questa fascia di età erano circa la metà di quelle che sono state invece nel primo trimestre del 2021. Confrontandolo anche con altri dati nazionali di colleghi di neuropsichiatria infantili come anche internazionali, ci permette di verificare che soprattutto nella seconda parte della pandemia, quindi nel secondo lockdown, c'è stato un incremento di circa il 30% di richieste di ricoveri nei reparti di neuropsichiatria infantili per tentativi suicidari, per crisi comportamentali molto gravi e per condotte autolesive. Nella mia esperienza personale non ci sono state conseguenze drammatiche, influenze significative si, emerse magari dalle chiacchierate. Una volta che ci eravamo rivisti allora, che ne so, pochi compiti per il fine settimana, così adesso uscite, adesso che si può uscire. Eh ma io profe, ma io non ho mica voglia di uscire. Accompagnò la mamma a fare la spesa, ma poi chiacchierando ci veniva fuori una cosa che non riguardava tanto la scuola, ma la loro vita personale, cioè che questo periodo obbligato dentro casa l'aveva come intorpiditi, in generale. Con la terza classe, con la terza media, lì ho incontrato dei ragazzini che, a detta dei genitori, hanno degli atti autolesionisti, sono completamente disinteressati, disamorati della scuola, non gli interessa più niente. La mia scuola è fortunata perché ha uno sportello di ascolto tenuto da una psicologa. Cerchiamo tramite questa professionista di farli parlare e di cercare di capire meglio qual è la loro situazione. Gli insegnanti sicuramente non hanno strumenti per cercare di aiutarli, se non il buonsenso delle persone comuni. La scuola, secondo me, si dovrebbe rapportare di più con questo tipo di professionalità. La pandemia, con le conseguenti misure di sicurezza, hanno influito negativamente su quelli che sono i fisiologici percorsi evolutivi dei bambini, in particolare dei preadolescenti. La scuola, in questo senso, quindi, ha un compito e un ruolo sicuramente importante. La didattica a distanza ha, in qualche modo, alterato questo processo. Lo spostamento sui canali, delle chat, i social, eccetera, hanno, in qualche modo, creato una dimensione falsificata, compromettendo quindi in questo senso il processo di identificazione, di costruzione della propria identità e della propria personalità. Qualcuno viene a parlarne con noi docenti. Personalmente mi è capitato, una ragazzina ogni tanto mi scrive e mi chiede di poter parlare. Però, appunto, qui io non ho le competenze se non quella di poter ascoltare con una persona adulta che parla con un adolescente. Hanno perso la capacità di stare insieme. Lo si vede da quando siamo tornati a scuola. Alcuni hanno dimostrato paura. In alcuni casi ho ragazzi che continuano a stare in un angolo, con i guanti, con la doppia mascherina. Cioè, all'inizio sono rientrati con la paura perché magari a qualcuno di loro è capitato un lutto in famiglia e quindi hanno vissuto in prima persona la problematica del Covid e quindi hanno sofferto molto e da soli forse l'hanno metabolizzato ancora meno. Secondo me nel complesso la didattica a distanza e la scelta che è stata fatta di tenere i ragazzi a casa è stato un fallimento. Rispetto ai rischi che la situazione attuale comporta per l'utenza sono difficili da quantificare o da esprimere in maniera perentoria. Si può comunque ipotizzare che l'aumento delle problematiche possano consolidare delle problematiche di personalità e quindi oltre al rischio acuto, è chiaro che un rischio suicidario aumentato è un rischio acuto che va gestito nell'immediato, ma al di là di questo ci può essere proprio una ricaduta sull'assetto di personalità permanente delle persone. In Umbria non abbiamo posti letto per le degenze ospedaliere dei pazienti con problematiche psichiatriiche, quindi bambini e adolescenti soprattutto con emergenze psichiatriche che non possono essere ricoverati in reparti di neuropsichiatria infantile perché non ci sono, vengono ricoverati in reparti non propri adattati che sono le pediatrie per i più piccoli o i reparti di diagnosi e cura che accolgono gli adulti con problematiche psichiatriche acute, che sono entrambi contesti non adatti alla gestione e al trattamento di questi pazienti. Per quanto riguarda la nostra struttura in particolare, noi abbiamo una carenza di spazi e quindi ci siamo trovati in una condizione di sovraccarico di presenze, quindi stiamo cercando, assieme all'azienda sanitaria, di trovare delle soluzioni sia definitive ma al momento temporaneo e quindi sulla base dell'urgenza attuale per far fronte a questa necessità. Grazie a tutti.